buongiorno benvenuti a questa rassegna stampa di oggi vediamo qua 22 maggio e che cosa succede sui giornali beh la questione politica è risolta si fa per dire da un'intervista di matteo selvini oggi al correde della sera che dice una cosa che a noi ci ha sempre detto e cioè che questo governo continuerà a durare per i prossimi quattro anni questo è quello che dice esplicitamente al correde della sera anche se stanno litigando su tutto perché sul decreto sicurezza hanno tirato in ballo il colle che non voleva certe norme e il decreto sicurezza come dice la verità non viene data urgenza il decreto sicurezza proprio nel giorno in cui coincidenza su coincidenza dice la verità di belpietro un marocchino o presunto tale perché non si riesce a capire neanche la sua età da fuoco a un palazzo dei vigili urbani uccidendo due persone e un altro marocchino o un altro immigrato che sarebbe dovuto essere espulso ma stacca un dito a un poliziotto a torino caos nel governo quello che dicono i giornali nonostante l'intervista appunto di salvini perché oltre al decreto sicurezza che non passa c'è anche il decreto legge un disegno legge sulla famiglia che vuole tanto di maio che non passa e lì ci spiega il messaggero motivo per il quale non passa questo disegno legge sulla famiglia e che prevede spese per un miliardo di euro in termini di detestazioni immagino per le famiglie numerose per i bambini per le babysitter le solite cose giuste che si fanno per incentivare o a dare una mano alle famiglie e però tria dice ragazzi questi soldi non ci sono di maio invece ci aveva raccontato che questi soldi arrivavano dal fatto che il reddito di cittadinanza era stato assegnato a meno persone di quanto previsto e in questa maniera si sarebbero risparmiati un miliardo su base annuale quindi questo miliardo si poteva usare per le famiglie questa è la tesi di di maio che invece tria oggi secondo tutti quanti retroscena non accetta e secondo il titolo del tempo che mi sembra il più significativo anche alla luce di quello che vi ho appena raccontato dai retroscena che leggete sui giornali oggi è dice il tempo tria spegne lo spot il movimento 5 stelle non esiste risparmio di un miliardo di euro e l'altra cosa straordinaria di oggi è questa storia che si è inventata sostanzialmente il fatto quotidiano non siamo nuovi alle invenzioni del fatto quotidiano oggi travaglio prende in giro la mia intervista a berlusconi perché ovviamente travaglio è il giornalista no che il più fico di tutti lo sponsor del movimento 5 stelle anzi di di maio di di battista oggi si dimentica per esempio di raccontare per quale motivo la balla che si è inventata lui della culona inchiavabile che ha scritto su quel giornale non l'ha mai smentita lui che l'ha tirata fuori e che nessuna carta processuale ha mai messo ma insomma travaglio lo conosciamo è quella roba lì e oggi prima pagina sul giornale che cosa fa forza il cardinale il vescovo il capo dei vescovi italiani bassetti che dice che avrebbe detto ieri alla conferenza episcopale che si devono votare tutti i partiti tranne la lega io sono abbastanza convinto che la sostanza sia questa da parte dei vescovi ma oggi leggendo avvenire non trovo nessuna di quelle indicazioni che invece leggo sul fatto di voto da parte dei vescovi italiani insomma è la solita informazione del fatto che è informazione diciamo completamente schierata legittimamente se non facessero i moralisti sarebbero anche più simpatici ma completamente legittimamente schierata per il movimento 5 stelle la mei è nel casino più totale ho provato a capire con ferrara perché oggi sul foglio si esercita sul fatto che in inghilterra cosa incredibile ne parleremo domenica a matrix che ci sarà la puntata finale di queste elezioni perché in gran bretagna è destinato a vincere il movimento pro brexit di nigel farage che una cosa incredibile l'abbiamo anche intervistato questa sera lo troverete a matrix quindi stasera guardatevi matrix c'è un intervista farage è incredibile che lui possa ancora vincere ma è talmente incredibile come si sta comportando la mail che adesso chiede un secondo referendum lasciando basito il giornale popolare daily mail che oggi su questo titola l'altro grande tema di giornata c'è l'apertura del del giornale ma c'è anche sul messaggero e che partono da giugno esattamente dopo le elezioni europee i tagli e le decurtazioni alle pensioni tagli forti è perché se tu hai pensioni di sopra 100 mila euro quindi le pensioni diciamo ricche ai tagli dal 15 fino al 40 per cento se le pensioni più alte quindi sono tagli seri in più ci sono tagli che sostanzialmente non sono essere sinceri tagli ma ne parla anche il messaggero sul fatto che alle pensioni anche quelle basse hanno dato degli aumenti in funzione di un'inflazione attesa che non c'è stata quindi questi aumenti verranno ritirati indietro con un effetto decurtazioni pensioni che sarà fastidioso ma che ci sarà da giugno in poi mai prima delle elezioni guardate che questo riguarda tutti i governi riguardo governo berlusconi riguardo al governo renzi riguardo al governo il movimento 5 stelle quando si avvicina alle pensioni si fanno solo operazioni che non facciano male da un punto di vista fiscale cittadini perché obiettivamente loro vogliono ovviamente portare a casa più risultati possibili la strage del clandestino di mirandola è incredibile perché lì la racconta bene a parte viene preso disidratato o sta male viene portato in ospedale gli mettono la flebo il nostro servizio sanitario si occupa di lui il nostro servizio di assistenza si occupa di questo ragazzo che è un decreto di espulsioni di cui non sappiamo neanche dove sia nato e quanti anni abbia quando è stato un po rimesso in sesto dal nostro servizio sanitario nazionale non espulso come sarebbe dovuto essere si sarebbe dovuto fare con lui ragazzi cioè invece di stare in galera invece lo salviamo gli mettiamo la flebo va in un palazzo gli da fuoco peraltro dei vigili urbani muoiono due persone e un'altra è gravemente ferita insieme ad altre venti se questo vi sembra normale in un paese normale e se dire questa cosa come dice filippo facci oggi sul libero vi sembra razzista è beh insomma io non la trovo razzista la trovo una cosa incredibile in questo paese però ha ragione mattia feltri oggi che dice è su questa roba qui facciamo grandissima campagna elettorale il primo è matteo salvini che dice questo è il motivo per il cui ci si deve essere porti chiusi e però e poi dall'altra parte invece gli risponde zingaretti e in realtà salvini invece di occuparsi dei porti chiusi si occupasse di mandare via le persone che hanno i decreti di espulsione e tutti e due fanno campagna elettorale ma tutti e due hanno torto perché in questo caso non c'entrano i porti chiusi che sono cosa buona e giusta perché e quindi ha torto anche zingaretti perché se i porti non fossero chiusi tanti come lui verrebbero in italia ma anche torto salvini perché cazzarola qui abbiamo un problema con quelli che già sono qua e l'idea che questi non possono essere cacciati immediatamente ma gli dobbiamo mettere la flebbo e farli star bene per poi andare cioè gli dobbiamo alimentare perché ci uccidano alimentare perché ci uccidano e tra l'altro una delle due persone uccise è una badante rumena che è un'immigrata non clandestina che stava qua e si faceva un mazzo così ed è forse insieme a tanti immigrati che ci sono in questo paese un sostegno alla nostra gente più anziana e più debole quindi non è un tema di immigrazione è un problema di clandestinità come si dovrebbe dire in un paese normale solo che in italia non si può parlare di clandestini va bene porro mi lega il mio messaggio ne trovo tanti se è incredibile ma è una cosa che fa schifo vabbè renzi intervista quotidiano nazionale poi l'altra cosa che veramente vi voglio segnalare è questa intervista di salvatore rossi oggi fatto alla repubblica a francesco manacorda perché ve la segnalo perché francesco manacorda intervista l'ex direttore generale della banca d'italia che si è dimesso che ha finito il suo mandato un mese fa due mesi fa l'uomo più importante della banca d'italia dopo il governatore e cosa dice il l'uomo più importante della banca d'italia ve lo leggo berlino ci ha ostacolato nel salvare le nostre banche è un sovranista salvatore rossi no anzi veniva considerato un nemico di questo governo tant'è che ha detto che anche con questo governo ha avuto dei problemi e si non si voleva la sua ricandidatura alla direzione generale poi lui si è dimesso ma insomma se ne è andato via alla fine neanche troppo in disaccordo con questo governo ma certo non in amicizia con questo governo che non lo tollerava ma se questo signore funzionario da 30 anni della banca d'italia dice che berlino ci ha ostacolato nel salvare le nostre banche e lo dice il direttore generale della banca d'italia siamo ancora qua a parlare del fatto che c'è un asse franco tedesco che ci ha fatto un mazzo così in europa o no e stiamo dicendolo quando a governare non erano questi quattro scappati di casa ma erano i super tecnici e stiamo dicendo questo oggi perché questa roba qua facciamo finta che sia soltanto una questione di sovranismo questa è una questione di italia oggi ricolfi lo dice su italia oggi sovranismo non è una cattiva parola perché se noi dobbiamo difendere le banche italiane dal fatto che quelle tedesche come dice oggi il direttore generale della banca d'italia sono state ricapitalizzate con fondi pubblici ma quando noi con fondi privati cioè il fondo interbancario non siamo riusciti a risolvere la soluzione di tre o quattro banchette sfigate e ovviamente poi in italia abbiamo litigato perché quella è quella di di renzi e abbiamo fatto tutta quella roba lì politica che ci sta tutta ma il punto fondamentale è che i tedeschi ce l'avevano con noi con le nostre banche quando hanno una banca come la loro deutsche bank guardatelo sul mio sito ne scrivo tutti quanti i dettagli delle settimane scorse che è sostanzialmente fallita fallita vabbè ultime cose debora libera per legittima difesa ammazza il papà è una storia che oggi tutti i giornali ci hanno morto nichi lauda di dire con la verità non c'è nessuna originalità purtroppo nei pezzi come spesso avviene nei coccodrilli di un grande signore della diciamo della nostra giovinezza e dell'ardire insomma della formula 1 quando era veramente pericoloso correre a quelle velocità e inchiesta non originale ma interessante di repubblica sull'inps targato tridico il professore comunista piazzato lì dal momento 5 stelle che farebbe tutto all'inps soltanto in funzione di questo governo questa sera c'è matrix vi consiglio vivamente di collegarvi poi domenica c'è un altro matrix che è quello finale elettorale per capire finalmente come sono andato vai a intervistare bellusconi il ridicolo nicola nutarelli io consiglio nicola nutarelli di guardarsi questa sera matrix con bellusconi e di leggersi il suo amato travaglio invece di perdere tempo in questa zuppa qua su facebook saluti anche instagram noi ci vediamo questa sera ciao ciao